Ed è un pensiero questo scritto in piena libertà Quando un giorno se n'è andato adesso non verrà Dedicato a tutti quelli che amano la vita Dedicato a tutti quelli che vanno in salita È un momento che non penso si ripeterà A chi sta seduto sai, non so cosa penserà Ma io lo dedico lo stesso a chi ha saputo amare A chi ogni giorno lotta perché vuole continuare A chi combatte e poi si batte per sentirsi bene A chi purtroppo pur provandoci alla fine c'è A chi non guarda perché lui non può guardare A chi è seduto perché camminare più non può A chi cerca di trovare quello che non ha A chi vuole avere ciò che avere non potrà A chi uccide perché uccidere è la sua attività A chi vive per l'immortalità Ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A loro io farò sì, ma una lacrimano, un sorriso sul mio viso è inciso per tutti loro, sì, sempre, dolcemente, una stretta A di mano, un regalo a loro io farò sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.